Sono tutti a piede libero gli almeno 15 componenti della banda che giovedì scorso, intorno alle 20 e 30, ha saltato la serie di securità agli a Ivri, a San Buceto, portando via una somma non ben quantificata, stimata tra i 3 e i 6 milioni di euro. La ricerca ora si sta concentrando su eventuali complici e sulla base logistica del colpo. Nelle indagini stiamo utilizzando una tecnica a strascico, ha dichiarato il questore di Chieti a Nino Gargano, che tradotto significa che le forze dell'ordine stanno passando al setaccio tutto ciò che hanno nella rete e di elementi nella rete ve ne sono diversi, dalle immagini delle 37 telecamere di videosorveglianza dei Livri fino ai rivenditori di telefoni usa e getta e ricetrasmittenti. Al vaglio però anche i verbali della polizia stradale dell'area metropolitana. Ci si chiede infatti come sia possibile che i banditi abbiano girato indisturbati con 20 mezzi rubati, auto, camion e perfino una ruspa utilizzata con destrezza per aprire un varco nelle mura dell'istituto di vigilanza. Sui mezzi sotto sequestro è al lavoro la scientifica, sia quella di Chieti sia quella giunta ad Ancona, alla ricerca di impronte digitali. Una delle armi intanto è stata rinvenuta nella campagna di Spoltore, si tratterebbe di un mitra. La ricerca è concentrata anche sui capannoni della zona. Secondo gli investigatori, infatti, il commando avrebbe avuto bisogno di un luogo sicuro dove preparare il colpo, ma anche di basisti, ovvero informatori, presumibilmente del posto. I banditi, infatti, sapevano bene come muoversi. Hanno sfondato il muro proprio dove e quando le guardie giurate stavano contando i soldi da riporre nel cavo. Cavo al cui interno c'erano altri 80 milioni di euro, rimasti però al sicuro nella camera blindata. La banda è arrivata, è andata via nel giro di 5 minuti, coprendo la fuga, dando alle fiamme auto e camion, mettendo a segno un colpo sensazionale ad ora di cena, tra Chieti e Pescara, sparando 20 colpi, ma senza colpire nessuno. Lo stile paramilitare ci indirizza verso la malavita foggiana o andriese, fanno sapere gli investigatori. Intanto il sostituto procuratore Marica Ponziani ha aperto un fascicolo contro i gnoti accusati di una sfilza di reati, detenzione abusiva d'armi, ricettazione, riciclaggio, incendio e ovviamente rapina pluriaggravata, che da sola nel codice di procedura penale prevede una pena fino a 20 anni di detenzione. Al momento la sede Ivri di San Buceto è ancora presidiata da polizia e guardie giurate, più per allontanare i turisti del crimine che nel timore che la banda torni a prendere quanto lasciato. Grazie a tutti.